Allora raga bentornati in questo nuovissimo video, nuovo video dell'HM project dopo davvero un sacco di tempo. Nuovo video con l'HM e quest'oggi come vedete abbiamo qui davanti un pacco abbastanza grosso firmato PBR perché la PBR mi ha inviato il kit trasmissione. Andiamo subito ad aprirlo, catena ragazzi, pignone e corona anodizzata rossa. Abbiamo appunto il kit trasmissione completo, pignone da 13 denti, corona da 54 denti e la catena rossa. Veramente bellissimo, sono contento, le ringrazio ancora e andiamo subito a montarla. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.